L'atteggiamento della Lega è quello che abbiamo detto sin dall'inizio, no alla legge Cirinale. Siamo stati chiari, abbiamo detto che avremmo votato a favore solamente di una cosa, del ritiro della legge Cirinale. La riteniamo contro le famiglie, contro i bambini, contro tutto quello che noi riteniamo naturale e normale previsto dalla Costituzione. Hanno voluto fare un atto di forza, hanno voluto parlare più dei tecnicismi che dei contenuti, hanno voluto fare i furbi. Il Partito Democratico ha giocato su tutti i campi, su tutti i tavoli e poi è entrato in ballo il Presidente del Consiglio che come al solito fa danni. E quindi con questa fiducia alla fine ha creato più problemi che altro.